Ma che impero che ha costruito LeBron James, impero di business, impero mediatico e chiaramente è un giocatore fuori, fuori dal comune. Adesso va ai Lakers e c'è tutto un gran discutere sul grano, sulle cose, le robe, ma il giocatore vincerà o non vincerà. E come abbiamo fatto per Cristiano Ronaldo, lo approfondiamo in questo video con l'aiuto di un ospite che ne sa, chiaramente a pacchi di basket, è un ospite pazzesco. Vorrei dirlo subito, ma lo dico dopo la sigla. È veramente un ospite incredibile. È proprio lui, sì, è lui, dopo la sigla. Insieme a noi in questo video il grandissimo Danilo Gallinari. Allora Danilo, subito dritti al punto, mai andato ai Lakers per i danè, per il grano? Perché gli danno più soldi? LeBron sicuramente ha fatto una scelta di vita e per la famiglia, perché so che la famiglia e i figli vanno a scuola a Los Angeles già da uno o due anni. Nell'ambiente sapevamo che aveva comprato una casa lì e quindi sicuramente ha fatto una scelta anche di vita. Firmando con Cleveland avrebbe firmato molti più soldi di quelli che ha firmato a Los Angeles. Chiaramente non ha una squadra per vincere già quest'anno, ma la società penso senta la responsabilità comunque di costruire una squadra forte e lo faranno nei prossimi due o tre anni. Super interessante. Motivazione non prettamente economica quindi, ma LeBron James è uno strepitoso uomo d'affari. Gli facciamo due calcoletti in tasca. Anzitutto ha questi 150 milioni di contratto LeBron e vabbè. E poi si stima che quando avrà finito di giocare, in tutto si sarà portato a casa una cifra intorno ai 380 milioni di dollari. La cifra più grossa, mai portata a casa sul campo, da un giocatore NBA. L'altra colonna portante dell'impero economico di LeBron sono chiaramente gli sponsor. E allora lì dentro hai Sprite, Kia, Beats, oltre a uno spatafio di altri sponsor. E soprattutto al contrattone Lifetime, quello per tutta la vita, con Nike, o Nike, o come la volete definire. Insomma. Solo lì si parla di un miliardo di valore complessivo. Ma a prescindere da questi dati che sono sempre un po' i soliti, la cosa che invece a me colpisce di più di LeBron James è la sua imprenditorialità. E lui va un passaggio oltre. Mi ha ricordato, non so perché, una vecchia intervista di Cher, la cantante, ve la ricordate? In cui raccontava che da ragazzina la mamma le diceva sempre, Cher, mi raccomando, devi trovarti un uomo. Lei un giorno si è rotto un po' i coglioni e ha detto, mamma, sono io l'uomo. E per LeBron James è un po' la stessa cosa. Cioè lui non si limita a essere il semplice testimonio dell'azienda. Certo fa anche quello. Gli danno del grano e lui sponsorizza questo oggetto qua. Ma fa un passo oltre. E' notevolissimo e astutissimo. Lui entra nell'azienda. Esempio McDonald, rinuncia a 15 milioni di dollari da McDonald, che non sono pochi, 15 zucca così, dice no grazie, per investire invece in un'azienda che è Blaze Pizza, che adesso mi sembra fatturi circa 300 milioni di dollari, dove ha una quota della società e lì grazie al suo carisma, alla sua visibilità, ai suoi contatti, al fatto che LeBron James dice, hey questa pizza è buona, a quel punto l'azienda decolla, o quantomeno aiuta l'azienda a decollare, e se poi l'azienda va a fare un exit, lui guadagna 10, 20, 100 volte di più rispetto a quello che cuccherebbe da un contrattino di sponsorizzazione qualunque. A quanto mi piace definire 15 milioni di dollari di contratto, un contrattino qualunque. Proseguiamo nell'impero di LeBron, prima di arrivare a Danilo e analizzare il giocatore. Allora ha investito in un sacco di altri posti, ha preso il 2% del Liverpool come squadra di calcio, ha investito poi in real estate, immobili, piruppi, un sacco di roba. Ultima nota interessante nel caso di LeBron è che ha lanciato anche una casa di produzione, uninterrupted, se andate su YouTube spesso trovate i video uninterrupted e c'è il faccione di LeBron, ed è un'altra nota interessante, cioè già nel 2015 lui portava a casa tipo 16 milioni per fare produzione. Ha una mentalità che va oltre al suo brand personale, è anche il regista, il dietro le quinte, il produttore. Molto molto saggio LeBron anche dal punto di vista della gestione finanziaria, business e della visione complessiva. Complimentone. Altra curiosità che però è interessante è l'impatto di LeBron sulle economie locali. Secondo uno studio del 2017 di Harvard University, l'impatto di LeBron su quanta gente poi va a mangiare fuori, su quanti locali nuovi aprono, su quanta gente viene assunta, è notevolissimo. Si parla di un aumento di locali, ristoranti, pizzeria eccetera eccetera del 13% circa e di un aumento dell'occupazione del 20 e bassa per cento. Che bellino è come dire, bastano 20 LeBron in Italia per risolvere il problema dell'occupazione. O quasi. Fatto questo pippone pallosissimo, veniamo con Danilo Galinari per capire il giocatore. Anzitutto Danilo, è LeBron il migliore? Sì, no? E perché lo è? LeBron è il migliore innanzitutto per delle qualità fisiche che pochi giocatori nella storia della palacanestro hanno, sicuramente delle doti naturali che ricordano giocatori unici come Michael Jordan. Il talento atletico ha poi delle qualità tecniche che non hanno tutti, ma quelle ce l'hanno magari qualche giocatore in più. La differenza la fa sicuramente fisicamente, poi quando vinci così tanto e sei il migliore al mondo vuol dire che anche mentalmente hai una marcia in più, perché arrivare a fare le statistiche individuali che fa lui e di squadra, dove arriva sempre in finale, ha vinto tutto quello che ha vinto, deve avere anche una forza mentale che un giocatore normale non ha. A proposito di mentalità c'era questo aneddoto curioso di un suo compagno di squadra che diceva sono arrivato all'allenamento la prima volta, un quarto d'ora prima, e LeBron mi ha detto oh ma cosa fai qua, dovresti essere qui un'ora prima. Allora la volta dopo sono andato un'ora prima e c'era lì LeBron che era lì da due ore prima. Altra curiosità che avevo è che cosa fa di diverso dagli altri lui, si allena diverso, che cos'ha di diverso LeBron James? Quando sei migliore al mondo sicuramente anche l'etica del lavoro è qualcosa che ti differenzia dagli altri, soprattutto il lavoro estivo, dove hai la possibilità di lavorare su te stesso e sistemare quelli che possono essere stati i problemi fisici della stagione, è un periodo fondamentale. Sicuramente lui è uno che passa molto tempo e investe molto sul suo corpo, non solo a livello di soldi ma anche a livello di tempo chiaramente, ha uno staff personale che lo segue costantemente, al di là dello staff della squadra, punta molto sul suo fisico e la cura del suo corpo, che è una cosa che tutti i giocatori dovrebbero fare, c'è chi lo fa di più e di meno, sicuramente lui lo fa in maniera perfetta. La sua longevità è sia natura che lavoro, perché sicuramente anche altri giocatori come me per esempio passano molto tempo in palestra, lavorare su se stessi e investono molto tempo, però sicuramente lui ha delle doti naturali che aiutano. Peraltro su questo tema del corpo di LeBron James sono usciti un sacco di articoli di recente, dove si dice cacchio, LeBron spende un milione e mezzo all'anno per stare in massima forma, con questo team ex-navisil, allenatori, cosi, c'ha la camera iperbarica a casa, la crioterapia è stato tra i primi a fare, insomma è uno impallinato per stare super super in forma e faccio notare che un milione e mezzo, sì sembra tanto, non è altro che un ottimo investimento con il ritorno che c'ha. Ma torniamo a Danilo, com'è giocare contro uno così? Peraltro andatevi a vedere il video dove c'è Danilo che fa crossover e va a canestro davanti a LeBron James, insomma. Diciamolo. Giocatore contro LeBron per me o per qualsiasi giocatore è una sfida sempre bellissima, una grande motivazione quando hai l'opportunità di giocare contro il migliore al mondo, uno dei migliori al mondo, vuoi sempre metterti alla prova per capire a che livello sei te, cosa ti manca per arrivare a quei livelli lì. Ogni giocatore, soprattutto che gioca nel suo ruolo come me, ogni volta che giochiamo contro siamo sempre molto motivati. Allo stesso tempo, come dicono in America, è un po' un nightmare, non è sempre bello giocare contro il migliore al mondo perché il più delle volte hanno la meglio loro, però è sempre una bella sfida. Un fenomeno. Non ci vorrei giocare contro LeBron. E come fai a fermarlo Danilo se ci giochi contro? Sommare un giocatore come LeBron in uno contro uno è quasi impossibile. Puoi cercare di magari fargli fare le cose che gli piacciono di meno. È uno scouting report dove sicuramente ha dei punti deboli e dei punti forti, però nonostante tutti cerchino di mandarlo dove lui non vuole, riesce comunque a fare i suoi punti, le sue statistiche e ad essere comunque il giocatore dominante, forse il più dominante della Lega. In uno contro uno è difficile, devi cercare di fermarlo con cinque giocatori, ma lui è molto bravo a passare la palla e quindi quello fa sì che le sue squadre siano sempre squadre forti, difficili da fermare anche nel collettivo. Lunga vita a LeBron, auguri di grande successo in futuro, ma un augurio di grande successo soprattutto al nostro Danilo. Danilo, grande, in bocca al lupo, spaca tutto. Ciao Monti, un abbraccio in bocca al lupo e a tutto motore. LeBron James, un grandissimo giocatore, come riassumerlo forse con una sua frase, quando dice che il successo non lo compri, il successo lo affitti e il prezzo dell'affitto lo paghi ogni giorno. Grazie. 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 Grazie a tutti.